Nell'intervista di questo mese parliamo di educazione continua in medicina e ne parliamo con la dottoressa Maria Grazia Cattaneo che ha un trascorso di farmacista ospedaliera in Lombardia e anche nella società italiana dei farmacisti ospedalieri, quindi ha una lunga anche esperienza in società scientifica e anche una lunga esperienza di formazione continua in ambito sanitario. Forse verrebbe da dire perché ne parliamo, perché la mia impressione è quella che nel percepito collettivo, questo termine non sia molto chiaro, si parla molto spesso dell'acronimo ECM e diciamo che può sembrare solamente un ambito burocratico che spesso viene disatteso. Allora, proprio alla dottoressa Cattaneo che abbiamo contrattualizzato con IAC proprio per focalizzarsi su questi aspetti, perché come società scientifica vogliamo sempre meglio capire e introduci in questi aspetti, abbiamo necessità che ci chiarisca un po' le idee. Quindi cos'è l'educazione continua in medicina? L'educazione, buongiorno a tutti, l'educazione continua in medicina è di fatto un programma nazionale di formazione continua obbligatoria per le professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. Ha preso il via molto tempo fa col decreto legislativo 502 del 92, quindi sono passati quasi 30 anni. Soprattutto negli ultimi anni si sono ottenuti risultati particolarmente interessanti che meritano da parte di tutti i professionisti di essere ulteriormente valorizzati. L'obbligo di formazione continua decorre dal primo gennaio successivo all'iscrizione all'ordine. Ecco, credo che questo riportare la normativa di legge ci dia la misura di quanto a livello nazionale sia ritenuto importante l'aggiornamento continuo. Questo è un dato di fatto che deve far pensare sì al dovere di formarsi, ma anche in modo importante il diritto di formarsi. Appunto perché su questo mi verrebbe proprio voglia di chiedere alla dottoressa se è importante, ma forse mi rendo conto di dire un'idiozia. Allora quanto è importante adempire a questo obbligo? Beh, è un obbligo di legge. Pertanto per poter esercitare, svolgere l'attività professionale sia come dipendenti che con contratti a diverso titolo o anche come libero professionisti è necessario assolvere all'impegno dei crediti formativi. Pertanto è un obbligo. Mi piace considerarlo anche un diritto in quanto, se vogliamo ben vedere, la possibilità di partecipare a corsi di formazione anche in orario considerato orario di lavoro è un diritto non da poco. la possibilità di distaccarsi dal lavoro riconosciuti dal proprio datore di lavoro è un diritto sacrosanto che va assolutamente caldeggiato, portato avanti e non abbandonato. Ecco, questo è proprio un invito che mi sento di fare in quanto vi è la possibilità, proprio grazie all'attiva partecipazione dei soci, soprattutto di una società scientifica, di rendere sempre più interessante questo percorso e questo programma obbligato di formazione. Grazie, questo è molto chiarificatore. Poi nella pagina in cui ho pubblicato questo video ci saranno anche ulteriore materiale da poter leggere per approfondire l'argomento. Sicuramente, come dicevo, il percepito è un po' diverso da quello che è la realtà e forse, mi permetto di dire, c'è ancora un po' più di confusione per quanto riguarda gli ambiti in cui si può svolgere l'educazione continua in medicina. Ci può magari chiarire un po' meglio questi aspetti? Il primo punto da chiarire sia che cos'è un credito, un credito formativo è un qualcosa di misurabile che ci dà l'idea sia di quanto impegno ci viene richiesto nella formazione continua, e di solito è misurato sui tre anni, sia di quanto noi in tre anni abbiamo assolto, e quindi ci dà l'idea della misurazione della formazione continua che abbiamo portato avanti per la quale ci siamo impegnati. La formazione può avvenire in ambito specifico tecnico-professionale, può avvenire in ambito di processo oppure di sistema più allargato, quindi anche queste tre macro aree sono un ambito importante, interessante di analisi, anche di pianificazione da parte del singolo professionista. I crediti formativi si possono acquisire con diverse modalità, sicuramente grazie ai provider, e poi magari vediamo un attimo di cosa si tratta, oppure attraverso la formazione individuale. Quindi entrambe le due possibilità per ciascun partecipante professionista sanitario. Il provider è un soggetto accreditato a sua volta, significa riconosciuto, qualificato sul territorio nazionale, e in grado di poter erogare formazione e di rilasciare crediti al partecipante. Le modalità di svolgimento dei corsi che propone sono residenziali, a distanza, miste, quindi vi è un'ampia possibilità e il professionista sanitario è libero di scegliere, e questo anche è molto importante. Altra possibilità è la formazione individuale. Allora, nella formazione individuale, mi piace ricordare come di fatto la norma entra in merito a ciò che già fa il professionista sanitario, in quanto è riconoscibile il credito per attività scientifica, sia di ricerca, quindi ricerca inteso come sperimentazione clinica, sia in ambito di pubblicazioni scientifiche. Oppure vi è la possibilità di vedere riconosciuto il tutoraggio individuale, la formazione individuale all'estero, l'autoformazione. Sembrano termini abbastanza insoliti e a volte sono poco conosciute queste possibilità e sono possibilità preziose, in quanto ciascuno di noi come professionista sanitario impegna tanto tempo in questi aspetti, anche solo l'autoformazione, che significa di fatto poter leggere riviste o approfondire un aspetto che interessa di tipo scientifico. Grazie, perché questo ci chiarisce molto tanti aspetti che anche qualificano l'attività che ogni giorno facciamo e che non sono noti ai più. Percepito, dicevo, generale, quello che si va al congresso, si possono prendere degli ECM e poi qualcuno li va a controllare, ma in realtà invece anche quanto è la qualità del nostro lavoro di assistenza e il tutoraggio di ricerca che ci può essere, contano come crediti che poi possono essere, per così dire, messi in banca e fatte fruttare nel triennio ovviamente in cui vanno raccolti. Come abbiamo detto, l'ultima domanda che può sembrare anche strana si è fatta dal presidente dell'associazione, ma noi abbiamo detto che l'abbiamo fatto già vestire dalla fine dell'anno scorso la maglia dell'IAC e lei è stata ben contenta di farlo. La domanda è cosa sta facendo IAC in questo ambito di educazione continua in medicina? Innanzitutto desidero ringraziare per questa opportunità, mi permetta, presidente, di farlo in quanto sto proprio vedendo per una professione con la quale ho lavorato per anni come responsabile qualità anche a livello aziendale, vedo la possibilità di applicare per una professione che sempre in prima linea ha sempre pochissimo tempo da dedicare i principi essenziali della qualità. Il percorso di formazione continua, quindi ci invita ECM, ci invita la Commissione Nazionale, è un esempio di percorso da fare in qualità. Cosa significa? Significa che tutti i portatori di interesse sono coinvolti in modo attivo per fare il meglio ottimizzando le risorse. Ora, IAC sta portando avanti in questi mesi distanza di accreditamento come provider standard. Significa che attualmente come provider provvisorio già lo può fare, può organizzare eventi formativi per i propri soci e anche per non soci e può riconoscere crediti ai partecipanti. E già questo è un passaggio molto importante. Ora, la possibilità con distanza di passare a diventare provider standard e quindi ogni quattro anni essere riconfermato è sicuramente un obiettivo molto importante dal punto di vista qualitativo. In questo frangente, IAC aveva scadenza entro il 28 febbraio di presentare un piano formativo annuale, lo ha presentato dopo averlo discusso all'interno del proprio Consiglio Direttivo Nazionale con eventi sia residenziali che a distanza che verranno portati avanti nel corso dell'anno ma con la possibilità di ampliare ulteriori eventuali eventi magari trasformando eventi già presenti nella società scientifica in eventi di tipo FAD. Altra cosa molto importante è l'idea di estendere questo percorso di miglioramento della qualità a tutti i processi di IAC, i processi per i quali IAC esiste, quindi la ricerca, la formazione, l'editoria, la possibilità di tutoraggio e di assistenza post-specialistica e l'aspetto assolutamente essenziale è che questo diventi un progetto globale di IAC che coinvolga in modo organico sia gli organismi che compongono l'associazione e sia soprattutto i soci. I soci che possono partecipare attivamente a questi eventi formativi possono poi contribuire alla misura della qualità di questi eventi in quanto partecipano sia al questionario di apprendimento e quindi possono alla fine conseguire crediti sia perché esprimono il loro percepito il loro percepito fa sì che IAC come provider possa modulare la propria offerta formativa e da ultimo ovviamente diventa un'ottimizzare le risorse e far crescere continuamente la professione al passo con i continui aggiornamenti e con le continue innovazioni. Grazie dottoressa. Lei ci fa anche riflettere su come il percorso di educazione continua e medicina qualifica la comunicazione scientifica nel senso che molto spesso quando andiamo a un congresso residenziale congresso nazionale o anche altri congressi locali o adesso formazione a distanza con i webinar abbiamo sempre da un certo punto visto tutto questo come il piacere della comunicazione scientifica tra i soci, non soci e tra i colleghi magari ci rendiamo meno conto che nel contesto stiamo facendo anche formazione stiamo anche aumentando le conoscenze e tutto questo percorso quindi di educazione continua e medicina prevede anche che i relatori abbiano determinate caratteristiche che ci sia un comitato scientifico che vaglia il progetto che ci sia un responsabile scientifico e quindi garantisce diciamo l'integrità anche della formazione scientifica della comunicazione scientifica che vogliamo avere avevamo detto che c'è sicuramente ci sono tutte le specifiche su questa pagina forse l'ultimo annuncio con cui possiamo salutare i soci è quegli adempimenti che si possono fare entro il 31 dicembre di quest'anno vuole chiarirli lei? sì essendo che i trienni di attenzione sono 2014-15-16 17-18-19 e adesso diciamo il 21-22 per quanto riguarda i trienni passati vi è la possibilità di regolarizzare i crediti dovuti che sono 150 nel triennio complessivo quindi non suddivisi per anno ma nel triennio complessivo 150 che sono in qualche modo acquisibili spostando da per il 2014 dal 2017 spostando 2014 ciò significa che vi è la possibilità di colmare i gap di crediti dovuti pescando dal triennio successivo vi è la possibilità di fare questo entro il 31 dicembre 2021 entrando nel sito del COGEAPS che è il consorzio dell'anagrafe di gestione dei professionisti sanitari e che ha all'interno il nostro dossier formativo di fatto e quindi ci consente di entrare sia per spostare i crediti ci consente anche di entrare per magari magari mettere inserire chiedere istanza di riconoscimento di quelle attività di autoformazione cui non avevamo pensato quindi questi aspetti sono molto importanti perché in qualche modo aiutano a entrare nell'ottica di poter pianificare il proprio percorso e di verificarlo ora da quanto ho potuto capire le istituzioni desiderano essere d'appoggio in questo non essere ostative quindi la parte burocratica penso che verrà sempre più sdellita vediamo anche ora che per entrare sia nel sito di Agenas MyACM che nel COGEAPS che è il più completo dal punto di vista del dossier formativo verrà attivato lo speed questo consente di entrare rapidamente vi assicuro che è sorprendente vedere la propria vita professionale degli anni passati regolarizzata attraverso i crediti fa ricordare quanto si è studiato anche va bene noi la ringraziamo dottoressa sia per questa intervista sia per tutto il lavoro che sta facendo per la nostra associazione e chiudiamo con un invito ai nostri soci appunto chi fosse ritardatario ha la possibilità fino al 31 dicembre di recuperare i crediti e inserirli negli anni precedenti e questo già se vediamo sul nostro sito c'è sempre più la possibilità di queste attività formative che danno sia per questo primo semestre sia per il secondo semestre di quest'anno che danno la possibilità di acquisire crediti formativi grazie e buona giornata grazie grazie